Con noi al Palio della Rana c'è il sindaco Giorgio Cancellieri, 49esima edizione, come sta andando? Assolutamente bene, questa manifestazione è strettamente dipendente alle condizioni meteorologiche, se tengono quelle allora siamo fortunati e va bene. Tutto sommato dopo 6-7 mesi di pioggia oggi ci ha degnato di questa giornata così così e quindi dai siamo contenti, andiamo avanti e ringrazio e colgo l'occasione però con voi e vi ringrazio di essere venuti, grazie davvero, per ringraziare il grande lavoro che ha fatto la Prolocco di Fermignano per organizzare questo evento che coinvolge un numero impressionante di persone. Se voi guardate i tanti ragazzi impegnati in questo corteo storico, dagli scarriolanti a quelli vestiti, ma voi pensate a tutti quei ragazzi che lavorano all'interno delle contrade anche per preparare da mangiare, quindi voglio dire l'impegno, qui c'è mezza città che lavora su questo palio, dopodiché se ti piove anche, no, è assolutamente un peccato. E un altro grande ringraziamento, quindi grazie, ripeto, alla Prolocco e al suo presidente Alessandro Pesaresi, grazie davvero, ma un grazie dovuto veramente a tutte queste splendide persone che con la loro presenza hanno voluto gratificare il palio, perché voi pensate, qui ci sono 7, 8, 10 mila persone a seconda delle edizioni, queste persone ovviamente sono di un territorio molto vasto, tra cui anche molte persone provenienti da città italiane molto lontane, ci sono un sacco di camper in giro, abbiamo il nostro spazio dedicato ai camper, che è assolutamente pieno, quindi ecco, grazie a tutte queste persone che con la loro presenza hanno voluto dare testimonianza e dire il palio è una cosa bella, lo dobbiamo rivivere o vivere per la prima volta. E rivalutare sempre di più, perché è veramente bella come una manifestazione, noi la ringraziamo. Io ringrazio veramente voi, date sempre impegno al territorio, perché noi siamo gente di questo territorio, dobbiamo fare di tutto per valorizzarlo, è nostro impegno non aspettarci niente da nessuno e stare sul pezzo, ripeto, impegnarci per far sì che questo territorio sia più vivibile possibile e ci si possa star bene anche e ovviamente soprattutto per i nostri figli. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.